Benvenuto! In questo video tutorial ti mostriamo come aggiungere insegnamenti sovrannumerari al tuo piano di studi. Entra in iCAT. Per inserire gli insegnamenti sovrannumerari è necessario accedere alla sezione Segreteria online piano di studi e selezionare il pulsante Presentazione modifica piano di studi. Per iniziare la compilazione clicca sul pulsante Inserisci modifica piano studi. Dopo aver compilato il tuo piano di studi clicca sulla voce Sovrannumerari. Per selezionare gli insegnamenti sovrannumerari è necessario prima indicare la facoltà di interesse. Puoi modificare la facoltà se gli insegnamenti di tuo interesse vengono proposti da facoltà diverse dalla tua. Per visualizzare gli insegnamenti della facoltà clicca su Cerca. Per selezionare gli insegnamenti di tuo interesse clicca su Seleziona. Gli insegnamenti scelti appaiono nella sezione Insegnamenti selezionati. Se vuoi modificare la tua scelta clicca su Elimina, altrimenti clicca su Conferma scelte per salvare. Al termine della selezione degli insegnamenti sovrannumerari troverai il riepilogo di tutti gli insegnamenti inseriti. Clicca su Conferma piano per salvare. Clicca su OK per confermare. Ti ricordiamo di stampare la ricevuta cliccando su Stampa piano. Se vuoi modificare le scelte relative agli insegnamenti sovrannumerari, puoi cliccare sul pulsante Sovrannumerari e cambiare le tue scelte entro le scadenze previste dalla tua facoltà e disponibili sul sito Studenti Cattolica.